Un grande leone della politica marchigiana, Palmiro Ucchielli, è stato riconfermato dai suoi concittadini sindaco di Vallefoglia. Ucchielli che si era ripresentato nella seconda investitura a carico del lavoro svolto in questi cinque anni per unire e rilanciare il territorio, come lui stesso più volte ha affermato, e in effetti questa ricetta lo ha proprio portato a stravincere. Non si muove Vallefoglia dunque che Ucchielli non voglia, che incassa un bel 59,89% per 4.362 voti e chiude la partita al primo set con il pentastellato Pistillo che porta a casa un 20,54%, 1.496 voti, e Carla Nicolini del centrodestra che gratta il restante 19,57% con 1.425 preferenze. Ma l'inossidabile Ucchielli in questo secondo mandato incassa anche più preferenze del 2014, ben 1.200 in più. Questa mattina a bocce ferme in una conferenza stampa ha tenuto a ringraziare l'elettorato e a ragionare anche sulle motivazioni alla base di questa sua seconda investitura. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i cittadini, la struttura del Comune, il Consiglio Comunale uscente, il Consiglio Comunale entrante e anche tutti i candidati di tutte le liste. Vorrei rassicurare anche quelli che non sono andati a votare, che non sono pochi, sono circa 3.000, e vorrei che potessero riconquistare la fiducia nelle istituzioni, nel Comune e nella città. Io cercherò di essere un punto di riferimento. La fiducia si conquista stando sul pezzo, risolvendo i problemi, dando una risposta. Dedicarsi agli altri, servire la comunità, penso che sia la cosa più bella in assoluto a chi gli piace la politica, la vita istituzionale, la deve fare con passione, con serietà, con onestà.